Allora, mi sono approcciata a questo sport circa novembre 2019, dopo 6-7 anni che sognavo di provare questo sport. Perché non l'ho fatto prima? Non lo so, avevo un po' di ansia, avevo un po' di timore, non mi sentivo a mio agio, avevo paura di quello che poteva succedere, avevo paura dei pregiudizi delle persone a me vicine su questo sport e quindi mi sono fatta influenzare, non l'ho mai provato prima. Tornarsi indietro lo farei, l'avrei iniziato dieci anni fa probabilmente. Grazie per la visione!